Giorno 520. Molte notizie di oggi provengono dalla direzione di Velika Novosilka. Prima di tutto, sono disponibili più informazioni sulle operazioni Astaro-Majorske, delle quali i membri della 35esima brigata di marina ucraina hanno rilasciato video di combattimento. Dopo che le truppe russe sono state costrette ad abbandonare la parte esterna del villaggio a causa dell'artiglieria, gli ucraini hanno immediatamente creato un punto d'appoggio e cominciato a ripulire le case. Dopo aver stabilito posizioni, le truppe ucraine hanno poi cominciato a causare pressione sui russi nella parte sud del villaggio. Lo scopo principale era quello di aspettare fino a che il secondo gruppo non fosse riuscito a condurre un attacco sui fianchi dalle colline, lasciando ai russi solo due opzioni, ritirarsi o ritrovarsi isolati dal resto dell'esercito. Come abbiamo riportato l'ultima volta, gli ucraini hanno distrutto molti dei veicoli russi prima di questo attacco, ma ne hanno dovuti affrontare molti altri mentre avanzavano in profondità nella regione. Ieri i fonti russe hanno cominciato a riportare sulla fase successiva dell'operazione ucraina, l'attacco su Orozaine. Al momento Orozaine si trova in un saliente e i russi hanno enormi problemi a rifornire il gruppo ritrovatosi all'interno. In più, se guardiamo la mappa topografica, possiamo vedere che, come tutti gli altri insediamenti lungo il fiume, Orozaine si trova nelle zone più basse, mentre gli ucraini tengono posizione sulle colline intorno all'insediamento. Fonti russe riportano che gli ucraini hanno attaccato con diverse unità rinforzate da corazzati e gli analisti russi hanno concluso che gli attacchi si intensificheranno, causando la caduta di Orozaine nelle prossime 48 ore. La caduta di questo insediamento permetterebbe agli ucraini di spingere la linea del fronte verso sud e avvicinarsi a Kremenchuk. Anche se secondo alcuni analisti le intenzioni ucraine sono quelle di prendere Kremenchuk e Novo Donetsk, è improbabile che impiegheranno particolari risorse per continuare in questa direzione. Novo Donetsk è protetta infatti dal fiume da un lato e dalla gola dall'alto, rendendola ostica ad attaccare, mentre Kremenchuk si trova su una collina che la rende difficile da approcciare frontalmente e se anche gli ucraini dovessero cercare di agirarla si troverebbero nel fuoco incrociato. È molto più probabile che gli ucraini si concentreranno sullo stabilire controllo sulla riva est e creare un controllo di fuoco sugli insediamenti sulla riva ovest, aggravando i problemi logistici russi e creando condizioni per un attacco su Zatovne, Basania e Staromilnivka. Come potete notare, Staromilnivka si trova in mezzo a due fiumi. Anche se uno dei fiumi è più che altro una gola con diverse paludi, crea comunque problemi nella progettazione di un attacco. Nonostante ciò, attaccare l'insediamento per sé non è necessario se gli ucraini riescono a prendere le alture intorno. Così facendo, le forze russe si ritroverebbero operativamente circondate e sarebbero costrette ad abbandonare il villaggio. Gli ucraini sono a conoscenza di questa prospettiva ed è esattamente il loro obiettivo. Ieri fonti russe hanno riportato che gli ucraini hanno ricominciato i loro attacchi verso Pryutne, ma cosa più importante, gli attacchi sono partiti da Rivnopil e Staromaiorsk. Sviluppando ulteriormente la loro testa di ponte, i russi a Pryutne si ritroveranno operativamente circondati e saranno costretti a ritirarsi. Dopo la caduta di Staromaiorsk, infatti, il cedimento automatico dalla linea difensiva è diventata solo una questione di tempo. Nel frattempo, il presidente dell'Ukraine a Volodymyr Zelensky ha fatto visita alla linea sud e tenuto un incontro con i vari generali. Zelensky si è congratulato con il comandante in capo Valery Zaluzny per il suo recente compleanno e fatto dono di un'arma da fuoco personalizzata. Oltre a congratularsi con il comandante delle forze di terra, Oleksandry Siersky, il cui compleanno era pochi giorni fa e fatto dono di un dipinto. Poco dopo questo incontro, i generali sono tornati al fronte per continuare la supervisione dell'operazione di controffensiva. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.